La riflessione che abbiamo fatto ieri, che la morte porta della felicità, ha scatenato tutta una serie di domande, anche di qualche critica e ringrazio tutti che poi ci sono giunte sulla casella di posta elettronica, sulla email. Ma è normale che oggi non si comprenda che la morte non è la fine di tutto, ma è l'ingresso, l'inizio della vera felicità. Certo, se io mi limito a vedere solo la morte come una fine, come l'esito naturale di ogni vita biologica, è anche questo, ma è proprio la nostra fede a darci una chiave di lettura. Ma non solo la fede, anche un pensiero retto, onesto, fa accettare che la morte può diventare una maestra di vita. E per noi vivere bene la vita vuol dire vivere nella felicità e vivere il paradiso già qui sulla terra. La felicità che cosa è? Se non il riflesso della felicità vera, della felicità eterna. La felicità non è vivere momenti di felicità, non è vivere delle emozioni che così come vengono, così vanno. L'amore è fatto di emozioni, ma non è emozioni, non è emozione. La felicità non è emozione. La felicità è uno stato interiore di benessere, uno stato di benessere che viene alimentato da maturità, da libertà interiore, che viene alimentato da voglia di vivere, da voglia di onestà, da voglia di protagonismo sano, vero, autentico. Uno stato interiore che per noi credenti è alimentato con questo stare in Dio, con questo nostro essere in relazione con il Signore e con gli uomini, soprattutto ultimi, poveri e dimenticati della terra. Quindi la felicità è uno stato interiore. E questo stato interiore, questo essere felici dentro, che già mi fa preguistare il paradiso, mi fa vivere la morte, come il compimento di questo mio desiderio divino, di questo mio desiderio di felicità. Come quel compimento di cui Parepio parla tante volte nei suoi scritti, fino a desiderare la morte come liberazione da questo mondo, chiaramente va interpretato il pensiero di Parepio nel contesto del suo tempo, nella teologia del suo tempo, nella formazione asceticomistica del suo tempo, nella formazione religiosa, ma Padre Pio lo viveva come una liberazione perché vedeva questo mondo, diceva lui come un impedimento a vivere l'incontro con il Signore. Questa è l'esperienza dei mistici come Padre Pio, ma con ciò non si vuol dire che Padre Pio non ha amato questo mondo, basta guardarsi intorno, basta vedere quello che ha fatto, basta vedere le milioni di persone che ha ascoltato, assolto e aiutato, basta vedere casa a sollievo della sofferenza, cosa sono? Se non testimonianze, tentativi di dire alla gente, il paradiso lo si può iniziare a vivere qui sulla terra, possiamo essere felici già qui sulla terra per vivere poi la vera felicità. Vi aspetto domani, Parepio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!